Ci siamo, ci siamo, ciao bambini, tempo di vacanze e allora oggi coloriamo una bella spiaggia, un beach, beach, con le palme, le ondi, i fiorellini, la vacanza, il sole! Oh, a proposito, ciao da Bimbo Ben, ciao a tutti! Siamo pronti? Allora dai, facciamo questo bel disegno, coloriamo subito un bel sole giallo, il mio colore preferito, vedete, anch'io sono tutto giallo, un po' pazzetto giallo. Dai, 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 il mio colore preferito, è bellissimo! E allora, aspetta che, anche qui, ecco qua, questo pezzettino qui è giallino, se non mi sbaglio, ecco qui, oh, perfetto! Le palme, le palme, le palme le facciamo belle verdine, dai, 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 verdine, belle, ok, così, anche qui, poi ne facciamo qualche foglia, la facciamo di un verde un po' diverso, dai, così, così, sono due verdi diversi, eh? Wow, guarda che bello, bello, eh? Wow, che bello! Poi il tronco, il tronco lo facciamo marroncino, 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 il tronco, ecco qua, delle palme, ok, benissimo! E poi qua ci facciamo un bel azzurrino, questo, wow, no, facciamo più chiaro, più chiaro, così, wow, vacanza, guarda che bello! Wow, bellissimo, bellissimo! Oh, qui, visto che, visto che è tempo di vacanze, ecco qui, eh? Bello, 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 questo però dovrebbe essere giallo, questi qui, gialloni, questi, questi spazzettini, quindi facciamo gialli, se li, oh, un po' difficile da fare perché sono piccolini, ma... Ok, perfetto, abbiamo fatto i gialli, ok, invece questo, questo, questo deve andare azzurrino, questo, questo azzurrino, qui, qui, azzurrino, aspetta, eh? Ok, perfetto, è andato, è andato, anche questo, oh, sono spazzetti piccolissimi, è un po' difficile da fare, eh? Allora, invece, qui abbiamo l'onda, la facciamo di un altro colore, con la schiuma bianca, i fiorelli, i fiori, come li facciamo, i fiori? I fiori io li farei così, ma no, ma che belli, belli, eh? Che dite? Belli, sì, sì, dai, questi, 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 così sono belli, anzi, ne facciamo, guarda, ne facciamo, aspetta, ne facciamo uno di un colore e uno di un altro, così, ok? Quelli lì li facciamo, li facciamo, di che colore li facciamo? Rossi? Rossi, dai, rossi. Wow, guarda che, è bellissimo, bellissimo, e allora qui questo lo facciamo rosso, questo rosso, questo rosso, invece questo lo cambiamo, lo facciamo così, eh? Bello! Ma siamo bravissimi, siamo bravissimi a disegnare, a colorare, perché qui stiamo colorando, oh, ci manca qui, là, dove c'è piantata la palma, la sabbia, la sabbia, allora, aspetta, aspetta, la sabbia, così, ecco qua, wow! Oh, aspetta, aspetta, qui, eh? Bello! Ah, bellissimo, bellissimo, io però farei anche questo, ecco, guarda, eh? Wow, stupendo, siamo stati bravissimi, bravissimi! Ma guarda che disegno che abbiamo fatto, ma siamo stati bravissimi, bambini, abbiamo colorato una, eh? Bello, 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 bellissimo, oh, ci vediamo al prossimo disegno, con Bimbo Bell, naturalmente, ciao bambini, ciao! Buone vacanze, buone vacanze, siamo andati in vacanze, buone vacanze, se non andate, niente, ciao!